Nella legge di bilancio 2020 al Com 75, articolo 1, si legge che i monopattini sono equiparati ai velocipedi. Attenzione dunque a considerarli alla stregua di giocattoli. Chi si mette alla guida di un monopattino deve rispettare le regole del codice stradale per evitare sanzioni. Eppure, mentre impazza la moda del loro utilizzo nelle città, c'è ancora chi non sa fare chiarezza tra poche e semplici regole per un uso corretto del mezzo. Nicolino Casale, comandante della Polizia Municipale di Montesilvano. I monopattini sono dei velocipedi a tutti gli effetti, con qualche piccolo distingo. Esempio, il velocipede può essere condotto anche dal ragazzo che ha un'età inferiore a 14 anni, invece il monopattino può essere condotto da un ragazzo che ha un'età superiore a 14 anni. Va anche detto che da 14 a 18 anni è obbligatorio indossare il caschetto, non il casco della moto ma bensì il casco per andare in bici. È vietato severamente trasportare un'altra persona. Vedo spesso dei genitori che trasportano i bambini attaccati al tubo del monopattino ed è pericolosissimo, tant'è che abbiamo rilevato diversi incidenti. Ci sono anche delle regole che riguardano la circolazione in orari serali, notturni, quando la visibilità è più scarsa. Bisogna accendere le luci del monopattino mezz'ora dopo il tramonto o mezz'ora prima dell'alba o in condizioni a atmosfere pessime in cui non c'è visibilità. Ma cosa ancora più importante è che durante le ore serali c'è l'obbligo di indossare un giubbottino catarifrangente o delle fasce catarifrangenti. Anche perché il monopattino, oltre a circolare sulle piste ciclabili, può circolare anche all'interno dell'abitato. Facciamo anche un po' di chiarezza sui limiti di velocità. Un monopattino può avere una velocità massima di 25 km orari, può circolare sulle piste ciclabili da dove ci sono e su tutte le strade urbane. Non può circolare nelle strade extraurbane se non sono dotate di pista ciclabile. Sui marciapiedi si può circolare e anche nelle aree pedonali, però la velocità deve essere di 6 km orari, quindi si può andare a passo d'uomo. Chi non rispetta queste semplici regole in cosa incorre? Contravvenzione da 100 a 50 euro. Poi per le altre contravvenzioni che riguardano le caratteristiche costruttive, le modifiche fatte ai monopattini, si rischiano contravvenzioni anche fino a 800 euro. È la confisca del mezzo. E poi sono avvertiti anche i genitori, perché spesso vediamo tantissimi minorenni, al di sotto dei 14 anni anche, che circolano su questi monopattini e in quel caso il responsabile è il genitore. Assolutamente sì. Ripeto, chi ha una realtà inferiore al quaderno non lo può condurre. Se conduce un monopattino viene sanzionato il genitore, cosa che succede anche per i minorenni che possono guidare il monopattino, quelli cioè compresi tra 14 e 18 anni. Per la legge va sempre e comunque sanzionato il genitore.